Un mondo di scarpe, scarpe di tutti i tipi, scarpe cool, scarpe chiare, scarpe scure, scarpe di pelle, scarpe da rumeno, scarpe normali, scarpe orribili, spiegaci, perchè? La polore zombie, vero? Fammi spiegare. Tu devi tirare fuori la tetta però, intanto. Eh, non hai detto di no. Il concetto di calzatura è importante, è neutro, il concetto neutro. E quindi va, niente, va reiterato ogni qualvolta si sente l'esigenza comunque di indossare una calzatura che la possa fare da padrone. Oppure quando hai l'acqua in casa. Tipo? Eh no, non so. Cosa devi fare? Ah! Ah, ma qua le battute! Si stregano! Tanto lo ridossiamo. C'è un minutino, ok, facciamo un'altra. Vai! Ha!